Allora, mister, oggi all'esordio stagionale contro Rivoli, una squadra sicuramente attrezzata. Qual è il suo commento sulla prestazione? Una prestazione che non mi è dispiaciuta, anzi, ho visto buone cose, ho visto delle trame positive durante la partita, per cui mi ha fatto sicuramente piacere vedere che si sta applicando con una certa continuità quello che si prova in settimana. Un po' meno bene invece sulle palline attive, dove su due situazioni di palline attive per l'appunto abbiamo subito due gol e si è portato a perdere la partita. In estate sono arrivati tanti giocatori nuovi, forse dovete ancora trovare l'amalgama giusta? No, credo che più che l'amalgama trovare ancora un ritmo e soprattutto un'intensità che ogni tanto ci viene meno, con distanze sempre non proprio appropriate. Siamo una squadra discretamente giovane che quindi ha ampi margini di miglioramento, però ripeto, della prestazione soddisfatto, un po' più di attenzione sulle palline attive dovrebbe andare decisamente meglio. Dove può arrivare secondo lei il suo Savigliano? Una squadra competitiva, una squadra a cui piace giocare, una squadra a cui piace imporre anche il gioco. Credo che fare un ottimo campionato, non dobbiamo sicuramente demoralizzarci, ma soprattutto dobbiamo lavorare tanto, ripeto, su delle situazioni che si sono create su palline attive e che ci hanno costretto poi a subire due gol. Grazie, in bocca al lupo. Buona giornata.